Domenica scorsa in piazza Duca degli Abruzza a Marina di Ragusa si è tenuto il secondo appuntamento dell'iniziativa denominata Prevenzione in Piazza e promosso dall'Associazione Politica Territorio di Ragusa. Nello specifico è stato installato un gazebo in cui all'interno due operatori sanitari volontari hanno effettuato la rilevazione dei parametri vitali ai cittadini che hanno fatto richiesta. Al termine è emesso che l'iniziativa è risultata molto apprezzata visto che sono state eseguite circa 200 misurazioni di pressione arteriosa. Per questo motivo l'appuntamento è destinato quindi a raddoppiare, infatti domenica prossima, ancora una volta di domenica, i gazebo di territorio Prevenzione in Piazza, oltre che a Marina, saranno installati anche a Scoglitti in Piazza Sorella e Arduino. In entrambi i casi gli orari di attivazione saranno quelli compresi tra le 9 e le 11 e 30. Soddisfatti ovviamente gli organizzatori per i riscontri ottenuti e ancora più contenti per il fatto che questa esperienza potrà essere replicata in territorio Ipparino da quelli che vengono definiti gli amici vittoriesi a Scoglitti. Grazie a tutti.